400 studenti dei licei pesaresi Mamiani e Mengaroni si sono immedesimati nelle biografie reali dei migranti accolti in provincia nell'ambito del progetto SAI, Sistema Accoglienza e Inclusione, gestito dal Labirinto Cooperativa Sociale. Un progetto presentato oggi in municipio che in occasione della recente giornata mondiale del migrante del rifugiato ha portato sui banchi pesaresi la cultura dell'accoglienza con una formula inedita, quella del gioco di ruolo. Nello specifico noi abbiamo inventato un gioco di ruolo che si chiama Party o Resti. In questo gioco di ruolo, nel tempo che abbiamo in aula, facciamo in modo che la classe possa mettersi nei panni di una persona migrante. Ovviamente il gioco è basato sulle biografie reali di persone che hanno attraversato i nostri progetti. Quindi noi abbiamo delle storie, la classe sceglie quale sarà un percorso in maniera del tutto casuale, dopodiché le varie fasi di questo percorso prevedono delle scelte. In questa situazione che cosa fai? Sì o no? Sulla base delle scelte che la classe fa, che quindi deve lavorare anche in gruppo, si aprono e si chiudono degli scenari. Alla fine del gioco, diciamo che tutte le scelte, chi prima e chi dopo, portano a partire. E quindi c'è anche tutta la parte di viaggio in cui ci sono determinate scelte da fare che assicurano meno il successo di questo viaggio che prevede sia in alcuni percorsi la rotta libica che quella balcanica. Portare con sé denaro o acqua, reagire o nascondersi, fino a decidere se partire o restare. E questo per loro è stato particolarmente sorprendente, ma lo è stato anche per me, perché anche io ho giocato. Ho giocato insieme alla mia classe ed è stato sorprendente verificare quanto tutta una serie di cose che noi davamo per scontate, diamo per scontate, poi scontate non lo sono, sono scontate per noi perché la nostra realtà è questa. Ma quanto è difficile mettersi nei panni di qualcun altro? Le attività svolte al Mamiani e al Mengaroni hanno dato vita ad un libretto che racchiude le riflessioni degli studenti in un progetto che presto sarà allargato ad altri istituti. Cosa ci abbiamo guadagnato? Stupore, la consapevolezza di non sapere, l'emozione di vite e storie che sono difficili anche solo da immaginare ma che sono vere perché il gioco si basa sulle vite vere.